Da più parti si chiedono psicologi per i detenuti sempre più soggetti a casi di autolesionismo nelle carceri italiane. L'ASL di Teramo, dal canto suo, ha pensato invece ad uno spazio di consulenza e sostegno psicologico riservato al personale sanitario e quello di polizia penitenziaria che operano nella casa circondariale di Castrogno. Lo sportello in via sperimentale sarà aperto il 19 aprile fino alla fine dell'anno in Contrada Casalena nel servizio psicologico medicina penitenziaria e assistenza psicologica. Il giorno di ricevimento settimanale sarà il venerdì dalle ore 9 alle 12 e ci si deve prenotare via mail. L'iniziativa è dell'unità operativa complessa di medicina penitenziaria diretta da Massimo Forlini e dell'assistenza psicologica il cui responsabile è Marcello Marcellini. Negli istituti penitenziari italiani, osserva il direttore generale dell'ASL Maurizio Di Giosia, si sta vivendo un periodo molto delicato e ciò vale sia per i detenuti che per il personale che in essi presta servizio. In particolare il sovraffollamento della popolazione ristretta e la generale carenza di organico affliggono il sistema carcerario con non trascurabili ripercussioni psicologiche su chi è deputato al suo funzionamento. Proprio in considerazione delle particolari condizioni di lavoro a cui sono soggetti il personale sanitario e quello penitenziario, l'ASL di Teramo ha ritenuto utile organizzare uno spazio di consulenza e sostegno psicologico a chi opera nell'istituto penitenziario di Castrogno. Proprio negli ultimi giorni si era tenuto all'esterno un sit-in di protesta da parte degli agenti della penitenziaria che soffrono da anni la carenza di personale al quale aveva preso parte anche il deputato abruzzese di azione Giulio Sottanelli.